Oggi è un giorno di pace, un giorno come tanti, perché migliaia di donne e uomini si impegnano finché nessuno mai possa portarci via la cosa più importante che abbiamo, la possibilità di vivere in un paese libero e sicuro. È questa la missione delle nostre forze armate, garantire che ogni giorno sia un giorno di pace. Forze armate, difendiamo la pace.